L'espressione del viso è molto importante nella lingua dei segni, è proprio una funzione linguistica oltre ad avere anche espressione emotiva, un significato emotivo, cioè si trasmette quello che si ha dentro. Pertanto quando Serena capisce improvvisamente le parole della balena, la voce della balena, ma soprattutto le parole, il significato, la sua espressione è un'espressione di estrema meraviglia.